Strami rumori nella notte vi disturbano? Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta? Vi è capitato di vedere spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate ancora. Prendete la cornetta e chiamate i professionisti. Chiamate gli acappofantasmi. Siamo pronti a credere in voi. Opportunità di franchising. Chiamateci. Grossel, sei dalle parti... ...terralla orientale? Sì. Alla nuova mostra su Goddard? Sì, perché? Qualcosa ti sta venendo incontro. Aspetta. Ho sentito qualcosa. Vado a dare un'occhiata. Vuoi sapere una cosa inquietante? Leggevo di quello Shandor, il tizio che ha donato la roba a su Goddard. Era un fanatico dell'occulto. Sai, soprannaturale. Un tipo strano. Stop! Perché non ne parliamo in un altro momento? Qualunque altro momento. Oh, cripio. Clay, non può stare qui. Ferma! Qualunque altro momento. And I don't know who you're gonna call Ghost Monster! Sì, beh, altrettanto è lei. Ehi, il nuovo cadetto! Benvenuto! Potrebbe essere un po' pericoloso. Il pericolo è il nostro mestiere. Cominceremo con una capacità del 50%. Dovrebbe ridurre al minimo ustioni o danni ai tessuti. Ehi, se devi bruciare dei tessuti, usa quelli del ragazzo. Non usare, Ray. L'ipoteca è il suo nome. Penso che abbia ragione. Come hai detto che ti chiami? Niente nomi, Ray. Non voglio affezionarvi troppo. Sai come non si sa mai. Ti ricordi cosa è successo al ragazzo di prima? Messa a punto completata. Sentirai un pericolio. Bene. Abbiamo preparato un rigoroso addestramento per insegnarti le principali funzioni del tuo equipaggiamento. Ci vuole un po' per padroneggiare le abilità richieste. Ma ne vale decisamente la pena. Siamo stati noi? No, non credo. Ray? Sarà stato un impulso di energia PSI. Considerevole. Una convulsione necromantica incanalata e centralizzata di settimo livello o più. Sì, verifichiamo i parametri del campo elettromagnetico. Temo di conoscere già la risposta, ma ve lo chiederò comunque. Questa roba di settimo livello è una cosa brutta o molto brutta? Su una scala da una dieci direi che... Fammi indovinare. È un sette. Diciamo che ci darà un bel da fare. E non nel senso buono del termine. È così, Ray. Attenti, Slimer è scappato di nuovo. No, aspetta, torna qui. Eccolo, per qualche strano motivo è attratto dalla griglia di contenimento. Da quando hai aggiunto il visore all'unità ne è affascinato. Ok, piano, Uracadetto. Ti spiegherò ogni cosa. Usa il flusso protonico per attirare la sua attenzione. No, un'unità di contenimento. Stai disintegrando uno strumento di eccezionale sensibilità. Ops, ne hai fatto uscire uno. È colpa mia. Oggi pomeriggio ho messo a punto la guarnizione interspaziale. L'aggiusto mentre voi le riprendete. È andato nel seminterrato e il suo amichetto fuggitivo è con lui. Forza, ragazzo. C'è del lavoro per te. Con le giuste precauzioni, Slimer è innocuo. Ah, più o meno. Il suo amichetto, però... Ok, allora andiamo a prenderlo. Non temere per l'unità di contenimento. Quando usi il flusso protonico per la prima volta è facile entusiasmarsi. Eagle aggiusterà in un attimo. Prima che la situazione ci sfugga di mano, familiarizza con lo zaino protonico. Quando sarai là fuori, sarai il tuo migliore amico. Le informazioni che ti servono sono visualizzate sullo zaino. Da qui puoi controllare le tue condizioni fisiche. Se la sezione verde della barra è piena, hai energia per sopportare molti danni e rimanere in piedi. Questa barra indica la temperatura. Se arriva al massimo, fai raffreddare lo zaino per evitare che vada in corte e si spegne. In genere, la cattura di un fantasma è un'operazione lineare. Ci sono tre basi. Indebolimento, cattura e intrappolamento. Le entità spettrali ricavano forza da un accumulo di energia psicocinetica. Usa il flusso protonico o altro strumento offensivo per disperdere l'energia. Privati dell'energia psicocinetica, sarà più facile catturarli. Sì, no! Vedi che lo strato di un fantasma indica l'accumulo di energia psicocinetica. Man mano che disperdi l'energia, si affiebolira. Staino quasi in zona rossa, raffreddalo! Abbiamo perso Slime. Eccolo! Grazie! Ma io che pensavo che Slimeer fosse disgustoso. Molto bene, hai capito tutto. Seconda fase, la cattura. Con questo controllo emetti manualmente un flusso di cattura o di trascinamento. Lo zaino rileva quando un fantasma è abbastanza debole e seleziona automaticamente il flusso di cattura. Valla dentro e lancia un flusso di cattura su quella poltissima. Fantastico! Ce l'hai fatto! Spena il fantasma è nel flusso di cattura, l'indicatore comincia pian piano a caricarsi. Per accelerare i tempi di caricamento dell'indicatore, trascina il fantasma quando va da una parte e tu vada all'alto. E... giù! Grande! Un fuggiasco recuperato. Ah, ricorda di recuperare la trappola. Li hai presi? Ah, siamo a metà lavoro. Slimer è scappato, ma il nostro cadetto ha messo nel sacco il primo. Un cliente davvero tosto. Ah, sta molto attento a non incrociare i flussi. Ricordati, mai incrociare i flussi. Tassativamente. E ti assicuro che fa parecchio male. Ehi, com'è che tutta la roba nuova finisce a pivello? È il nostro nuovo addetto all'equipaggiamento sperimentale. E ha pure una qualifica altisonante. Significa che deve portarsi in giro pericolosissime apparecchiature non collaudate che lo spedirebbero nel New Jersey se esplodessero. Oh, lui è il testone che porta in giro quei pericolosissimi prototipi che ci spedirebbero nel New Jersey se esplodessero. Grazie. Tieniti pure il titolo, ragazzo, te lo sei guadagnato. Ehi, fulmine di guerra, dobbiamo andare. Dove andiamo, Ray? Al Sedgwick Hotel. È lì che quell'aborto di Tubero andrà. Giusto. Dove si è manifestato la prima volta? Beh, lì il buffet è ottimo. È proprio ottimo. Non appena Winston torna dal teatro digli che lo aspettiamo per cena al nostro tavolo al Sedgwick. Ehi tu, tocca a te, bello. Stanotte ti addestrerai sul campo cerca di non distruggere tutta quanta malattia. A quello pensiamo noi.